Indico la votazione nominale e finale mediante procedimento elettronico sul disegno di legge già approvato dal Senato numero 1898 conversione in legge con modificazioni del decreto legge 18 aprile 2019 numero 32 recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. La votazione è aperta. Chi non riesce a votare? Frassinetti, Silvestroni, Mauri, Patassini, Incerti, Zicchieri. Colleghi, non siamo a scuola, né tantomeno una gita scolastica, quindi non è consentito fare selfie. Grazie. Grazie. Grazie.